Iniziamo un nuovo ciclo dedicato al colore, cioè il colore declinato in tanti aspetti. Questa metodologia di incontri è familiare alla Fondazione, ha fatto incontri sul corpo variamente declinato sulla piazza, su tanti altri concetti di questo tipo. Stasera inaugura il professor Maurizio Ridolfi, noto storico, insegna all'Università di Viterbo o che si chiama poi dell'Attuscia, no, dell'Attuscia, il quale è autore di tante opere, ma in particolare di un'Italia colori, che è una storia delle passioni politiche e la politica dei colori. Anche qui un'emotività che si rappresenta attraverso il colore, che in fondo è uno dei tanti linguaggi dal risorgimento in avanti. Quindi la persona giustissima, al posto giusto, lo ringraziamo per essere venuto e gli auguriamo una buona conversazione, appunto con il ringraziamento di tutti noi. Buonasera a tutti, io sono molto lieto di essere qua, anche perché capita raramente di fare dei lavori che trovano una collocazione in un ciclo sui colori, come capita in questa occasione. Ringrazio la fondazione, ringrazio Lemonyet e Mondadori Education perché ha creduto in questa cosa, addirittura ci ha creduto al punto tale che i libri sono diventati due, da uno sono diventati due perché era troppo grosso, non riuscivamo a gestirlo, diciamo dal punto di vista editoriale, quindi hanno pensato e io sono molto lieto di questo, di trasformare in due volumi. Come cerco di gestire, ecco avete visto le copertine, come cerco di gestire questa chiacchierata? Intanto vi vorrei raccontare come sono arrivato a, diciamo, ma perché arrivi con tutte le cose belle che si potrebbero studiare, studiare questa dinamica cromatica legata ai colori, alle rappresentazioni delle culture politiche, alle autorappresentazioni, alle demonizzazioni delle culture politiche attraverso il gioco del contrasto dei colori. Farò un tentativo, diciamo, un pochino ambizioso perché cercherò attraverso la selezione di 13 immagini, non di più, mi piace il numero 13, quindi ho investito anche su questo valore scaramantico. Il lavoro è costruito sul lungo periodo, dagli anni della Revoluzione Francese fino al 2011, ai 150 anni dell'Unità d'Italia, questo è l'orizzonte. Il primo volume arriva fino al 1940, il secondo volume dal 43, dalla Liberazione fino al 2011. Ho lavorato su un campione di 350 immagini circa a colori, il che vuol dire che prima ne avevo viste non so quante e alla fine, diciamo, tra i due volumi il computo complessivo è di circa 350 immagini. Perché lo ricordo? Lo ricordo perché è un altro dei motivi per i quali sono lieto della disponibilità che ho trovato presso l'editore, tutte queste immagini le trovate in rete, nell'archivio di Mondadori Education, voi andando, mettendo, cliccando il titolo, vengono fuori le immagini che nei due volumi sono ricordate. Leggendo il volume c'è un'icona, un'iconcina, numero 4, numero 20, andate in rete e trovate le immagini. Io le immagini le descrivo, cerco di fare quello che di solito non si fa, nel senso che si cita, insomma, gli studiosi che sono qui lo sanno, si cita una fonte e dandola per acquisita, in realtà spesso non è così, allora ho cercato di descriverla già durante il testo, confidando che poi nasca una curiosità per andarla a vedere. Questo come, diciamo, lavoro mio generale, è un lavoro, voi capite, che è partito, ma almeno una decina di anni fa, insomma. Devo dire che tra gli spunti che mi hanno poi spinto ad entrare dentro questo argomento, ci fu un volume nel 2003 dell'amico Ilvo Diamanti, che conoscete perché scrive sulla Repubblica, perché sono in televisione, è notissimo, oltre che essere bravo, sociologo e politologo, il quale fece un libro che a noi è piaciuto molto, il titolo era veramente intrigante, Bianco, Rosso, Verde e Azzurro, 2003, dove dal punto di vista suo, di un sociologo, di un politologo, ipotizzava una lettura anche cromatica della trasmissione delle culture politiche e della territorialità delle culture politiche nel corso del secondo dopoguerra. Tra le varie cose, Ilvo Diamanti scriveva questa cosa qua, Silvio Berlusconi ha scelto l'Italia, ma un'Italia poco connotata dal punto di vista dell'identità, come suggerisce il colore scelto per caratterizzarsi, l'azzurro, come sappiamo, gli azzurri, eccetera, evoca non la nazione, ma la nazionale, parentesi, di calcio, ma anche di altri sport, un transfert identitario che risulta lontano dal piano ideologico che richiamano altri colori, il bianco, il rosso, ma anche il verde. E qui entra in campo lo storico, e qui entro in campo io nel tentativo di dare un senso ad un lavoro nel quale, come facciamo sempre noi che ci occupiamo di storia contemporanea, l'oggetto della ricerca parte da emergenze, da questioni, da processi, da quest'Italia in colore, che non si riconosce più in tradizioni e culture politiche che si autorappresentavano attraverso dei colori, e che non è che non abbia dei colori, ma è un'Italia sbiadita, come posso dire, laddove le culture diffuse non funzionano più, funziona l'individualismo, ognuno di noi è se stesso, rispetto a quello che intorno succede nel mondo della comunicazione e della politica. E non ci va molto di ascriverci ad un colore o ad un altro, mentre quando si era più giovani, la mia esperienza personale, era facile riconoscersi in un colore o in un altro, oppure contestare, contrastare il colore degli altri, appunto attraverso processi di demonizzazione, di conflitto aperto di natura ideologica e politica. Allora, tentiamo di capire come siamo arrivati a questo che nel 2003 ci descriveva Diamanti, ci descriveva, lo prefigurava, poi ovviamente il suo mestiere è un altro, è un sociologo, è un politologo, gli storici cercano di andare indietro, capire l'origine di certi fenomeni perché ancora oggi sono attuali, perché sono aperti, sono questioni aperte. Il colore, la modernità, uno fa i conti con la modernità, con quanto è bello una cosa colorata rispetto a una cosa bianco e nera, a meno che qualcuno dica no, per me il bianco e nero è più bello del colore, ma insomma la modernità è passata anche attraverso i colori. Io ho diversi riferimenti, diciamo, che vorrei richiamare velocemente perché poi vi voglio far vedere le immagini campione che ho selezionato. Fuori d'Italia sicuramente la storiografia francese, Michel Pastoreau, storico del Medioevo, che è arrivato fino a in giorni nostri, interrogandosi sugli aspetti sociali e culturali del colore, della rappresentazione cromatica e assai meno, diciamo, della dimensione politica. Maurice Aguillon è quel che ci ha lasciato, studi veramente memorabili, sebbene anche nel suo caso il colore sia incidentale rispetto ad uno studio del politico laddove altre erano le emergenze che lo interessavano. Ma potrei ricordare, ecco, coloro i quali hanno assonanze con gli studi ottocenteschi, un nome incredibile da pronunciare, Moisejostrogoski, che è appunto uno studioso di origine russa che poi fece fortuna in Occidente e che scrisse uno dei volumi classici nella storia, sulla storia dei partiti politici all'inizio del Novecento. Bene, questo studioso è quello che mi ha dato il là rispetto ad una chiave di lettura che io cerco di verificare anche con voi poi a questo pomeriggio. In che senso il colore, anche rispetto alla rappresentazione della politica del politico, ha rappresentato un fattore di grande modernità e modernizzazione. Ostrogoski si occupò delle campagne elettorali, fu il primo a studiare in modo moderno le campagne elettorali, fra Gran Bretagna e Stati Uniti nel secondo ottocento. E che cosa sottolineò? Come posso dire, in modo incidentale non c'è un modello teorico, ci sono delle spie, delle intuizioni, delle suggestioni che col senno del poi, diciamo, si potevano, e ho cercato di farlo analizzare e costruirne un modello. La politica diventa moderna insieme alla pubblicità, alla pubblicità commerciale, ai primi manifesti colorati che promuovono le lampadine invece che la tecnologia e la modernità, la modernizzazione che stava arrivando tra fine otto e inizio novecento. Ho cercato di tenere insieme questi due corni della questione, la politica e la sua rappresentazione, attraverso il mutamento dei linguaggi e della comunicazione, allora la stampa, la caricatura, la pittura, su su attraverso le prime pagine della Domenica del Corriere, stiamo parlando qui alla fondazione Corriere della Sera, dal 1899 Achille Beltrame fa queste prime pagine colorate che sono straordinarie, spesso ci dicono molto di più quelle pagine illustrate e colorate di tante altre fonti, veramente sono essenziali e ci ho lavorato molto, ovviamente poi venendo avanti la propaganda, la propaganda che diventa comunicazione, la propaganda politica, la propaganda elettorale, il cinema, vi farò un esempio poi attraverso una pellicola che voi tutti ricorderete. Insomma ho lavorato in questo modo, ho cercato di incrociare fonti, ho cercato di incrociare problemi, seguendo una suggestione di Maurizio Agulon ho dato valenza prioritaria alle immagini colorate rispetto al discorso sul colore, c'è un modo di fare storia culturale in Italia laddove il discorso diventa centrale e quasi autoreferenziale, è giusto studiare il discorso e i mutamenti del discorso, non mi sembra sufficiente, in questo caso parlando dei colori non potevo non fare i conti con le immagini, questo ho cercato di fare, il primo volume parte della rivoluzione francese, arriva come vi dicevo agli anni 40 e c'è il tentativo di capire come ad un certo punto della storia del colore, dei colori, la politica entra in campo, il colore ovviamente era usatissimo in passato, pensate alla tradizione religiosa, la tradizione pittorica, la tradizione artistica, negli anni della rivoluzione francese in Francia, in Italia come riflesso di quello che accadeva in Francia abbiamo l'acquisizione di una dimensione anche politica da parte del colore della rappresentazione cromatica, di lì parto e essendo a Milano non potevo non partire con il tricolore classico per eccellenza, ho messo delle piccole didascalie perché sia chiaro subito il riferimento, siamo al 1796, la legione lombarda laddove si incrociano rosso e bianco di Milano, il verde della guardia civica milanese, il blu diventa verde, il blu politico della tradizione francese diventa verde, ci sono anche dei riflessi legati al simbolismo massonico, c'è una rielaborazione però di rappresentazioni cromatiche che è legata alla storia, in questo caso lombarda che poi diventa, sapete, Repubblica Cispadana, Transpadana, Cisalpina eccetera eccetera, fino agli anni napoleonici. Non potevo non partire essendo a Milano con un riferimento a questo tipo di fonte, voi vedete il beretto frigio in mezzo, il bonnet della tradizione francese, vedete la simbologia, le didascalie che ci legano agli anni giacobini, diciamo così detti giacobini dell'Italia della fine del Settecento. Una fonte successiva riguarda le annessioni, i plebisciti, chi si occupa un po' di storia del risorgimento sa che uno dei temi più affrontati negli ultimi anni e laddove anche giovani studiosi hanno lavorato molto bene con un taglio di storia politica e di storia culturale molto efficace. Qui stiamo parlando di Enrico Gamba e forse mi viene utile andare a recuperare la fonte, che nel 61 dipinge questa processione dalla campagna, da un paese circostante Firenze, partono con in testa il tricolore con in mezzo sulla parte bianca lo stemma dei Savoia, lo scudo bianco-rosso, i notabili, gli esponenti più importanti del paese che guidano quelli che andranno a votare a dire sì, siamo d'accordo perché nasca quello che sarebbe poi stato il Regno d'Italia. Perché voglio andare a recuperare le fonti? Perché voglio darvi qualche esempio, lo faccio in modo rapsodico, mi scuserete ovviamente la selezione è opinabile, ho scelto delle immagini e ne potevo scegliere altre, ma spero di riuscire a farvi capire perché le ho scelte e che tipo di lavoro uno storico poteva fare su immagini di questa natura, vedrete che saranno immagini con tipologie diverse. Gamba, 61, dipinge questa processione comunitaria. La cosa singolare, voi vedrete abbigliamenti diversi, ecco un aspetto anche che ho seguito molto, Boris Agoulon che prima ricordavo insisteva su questa dimensione, il colore si capisce, la sua funzione, il suo valore, più che nel parlato, nel colore che uno porta addosso, nella coccarda, nel colore di una camicia, di un foulard, di un cappello. Cioè la quotidianità, l'abbigliamento, le trasformazioni degli abbigliamenti e quindi la rivoluzione dei consumi, ne parleremo nel secondo dopoguerra. Voi vedete qui davanti abbigliamenti diversi, c'è il borghese, c'è l'aristocratico, c'è il popolano, ci sono le popolane con i colori e gli abbigliamenti tipici dei diversi cittadini sociali. La cosa singolare che ho visto facendo un riscontro con le fonti scritte, Bettino Ricasoli che è stato il playmaker del processo di unificazione del Gran Ducato di Toscana dentro il Regno d'Italia, il 3 marzo 1860, preparando il plebiscito in quel caso in Toscana, aveva scritto ai suoi dipendenti prefigurando quasi quello che poi Gamba avrebbe rappresentato in questo dipinto. Sentite Ricasoli come descrive e prefigura il plebiscito, la processione e poi l'organizzazione del voto. I fattori, i fattori agrari che gestivano le relazioni agrarie in campagna, alla testa dei contadini e della propria amministrazione, il possidente campagnolo più influente alla testa degli uomini che abitano una strada, una contrada, eccetera, con vessillo italiano guidi e capitani in drappello e dignitosamente procedendo all'urbe dei destini della nazione la sua comitiva e ciascuno vi deponga la sua scheda e quindi retroceda e ad un certo punto stabilito si disciolga. È come se sul piano pittorico Enrico Gamba vada a trasporre queste indicazioni che guidando, costruendo il processo di partecipazione al voto Ricasoli aveva gestito. Un'altra fonte successiva. Un salto, siamo nell'ambito dell'iconografia del movimento operaio socialista. L'avanti della Domenica, così come la Domenica del Corriere, era il dominicale del quotidiano del Partito Socialista, nato nel 1896. Questa è l'immagine più significativa e l'unica che esista prima della nascita del simbolo comunista che incrocia la falce e il martello, in cui ci siano i due simboli di quello che sarebbe diventato il simbolo comunista, ma come vedete uno da una parte e uno dall'altro. Non c'è nella tradizione socialista neanche una immagine che prima della rivoluzione russa veda insieme martello e falce. In questo caso ci sono quei due simboli, ma come vedete sono tenuti da una mano e dall'altra. In una cascata di garofani rossi il garofano era per eccellenza il simbolo floreale della cultura e della tradizione anarchico-socialista. È come un'ascesa al cielo, la simbologia che va a condensare valori e ideali e si proietta verso il futuro, verso il cielo. Questa immagine l'ho messa perché secondo me è molto indicativa ovviamente di quel mondo che stava crescendo nell'Italia liberale del tempo, ma è significativa perché è quella che più di tutte prefigura una simbologia che dopo il 17, come sapete, si sarebbe andata affermando nella storia del movimento operaio e socialista. Immagine successiva. siamo dentro la storia, la cultura, la rappresentazione del mondo futurista. Vedete questa bandiera? Noterete una simmetria evidente tra lo spazio del colore rosso e lo spazio del verde e lo spazio del bianco. era una cosa voluta. Questi erano cartoline che gli intellettuali, gli avanguardisti, i volontari futuristi che parteciparono alla guerra si scambiavano mandandosi dei saluti e degli auguri. La parte rossa è assolutamente preponderante e non è casuale, non è mai casuale il fatto che un colore sia vicino ad un altro. In questo senso ci metterei quel tanto di strutturalismo per cui non è mai banale che un colore sia vicino ad un altro. Se c'è una certa sequenza c'è una motivazione. La motivazione è che i futuristi pensavano di se stessi di essere dei rivoluzionari. In quegli anni il rosso era il rosso che condensava e rappresentava i valori di un movimento culturale, avanguardista, pittorico. Insisto su questo perché questa è un'altra dimensione che ovviamente non ho potuto non affrontare nel mutamento del rapporto che si andò a delineare tra cosa? I tre colori dell'identità nazionale che ovviamente sapete essere il verde, il bianco e il rosso fin da quel primo manifesto della legione lombarda che vi ho fatto vedere e le declinazioni diverse che il rosso, che il verde, che il bianco. Allora potremmo dire il rosso della tradizione anarchico-socialista comunista, il bianco potremmo dire della tradizione del mondo cattolico, il verde potremmo dire di diverse tradizioni, a partire da quella massonica, poi repubblicana, fino ad arrivare a quella del movimento verde, addirittura la lega nord. Una fonte significativa, una giusta posizione con una simmetria dei tre colori che appunto rappresentava e condensava, io insesto molto sulla valenza nella rappresentazione delle culture politiche del simbolismo cromatico. Che cosa sono i simboli secondo i sociologi, i politologi? Sono quei segnini anche piccoli, una faccia e martello, una fiamma tricolore, uno scudo crociato che condensano valori e li rendono percepibili con facilità anche da parte di chi non ha una cultura politica, di chi non ha studiato, non ha avuto la fortuna di studiare. La simbologia cromatica è centrale in un'idea delle culture politiche laddove la dimensione emotiva, sentimentale sia forte, come io credo debba essere rimarcata. Un'altra immagine, sto sempre andando per immagini rappresentative, esemplari che ci raccontano di mutamenti e di trasformazioni. Qui stiamo parlando di conti, primo conti e uno di cui quadri, siamo tra il 29 e il 30, che avrebbero rappresentato tra appunto 29 e 30 e il primo decennio dell'avvento della marcia su Roma, la vittoria della rivoluzione fascista. Stiamo parlando di primo conti, il quale aveva fondato il primo Viareggio, era attivissimo nella vita politica, culturale e letteraria degli anni 20 e degli anni 30. che cosa troviamo in questo quadro? Intanto c'è la rappresentazione del dittatore a cavallo, il dittatore della tradizione romana sul cavallo bianco, poi ritorno sulla rappresentazione del cavallo e del colore bianco del cavallo, l'imperatore ovviamente, l'uomo di potere, con l'ossetto del comando in mano. Qua che cosa vedete? Il drago, il drago rosso, il bolshevismo sconfitto, quindi la rappresentazione allegorica di quel che era accaduto e di quello che il fascismo voleva rappresentare, una rivoluzione vittoriosa rispetto alla minaccia e alla paura del comunismo che incombeva dalla Russia e dall'Unione Sovietica. Ovviamente c'erano rimandi al passato, c'era il Napoleone al Gran San Bernardo di Jacques-Louis David, che è una rappresentazione classica nella storia della cultura e della pittura rivoluzionaria francese. C'era il riferimento al Vittorio Emanuele di Gerola Menduno, 1861. Vedete? Il cavallo bianco, il cavallo non poteva non essere bianco in questa rappresentazione e in questa tradizione iconografica che quindi aveva una lunga storia alle spalle. Passano pochi anni e guardate un po' come cambia la rappresentazione di Mussolini. Dottori, ritratto del Duce 33, siamo dentro completamente la tradizione futurista, la modernità del linguaggio futurista. Il volto di Mussolini perde di fisicità, è monumentale, ci sono volumi tali che tradiscono la natura invece pittorica, tradizionale che fino ad allora, primo conti, prima lo abbiamo visto, avevamo riscontrato. Nel cielo azzurro si stagliano aerei, sapete la rappresentazione dell'aereo come velocità, come modernità, come espressione della modernità del fascismo, le trasvolate tra Roma e gli Stati Uniti, la rappresentazione di una modernità acquisita di cui il fascismo voleva rendersi interprete. È un'altra rappresentazione di Mussolini. Dopo il 30, 31, 32, questo sarà il modo di rappresentare Mussolini anche con colori che, vedete, non sono più solo e soltanto il tradizionale colore nero, ma c'è altro, c'è ben altro, c'è una tradizione della pittura futurista che torna e che viene reinterpretata per la finalità di costruire consenso attorno al regime e rappresentare la vittoria a quel punto del regime fascista. E qui chiudo la parte relativa al primo volume, sul secondo volume lavoro un po' di più perché ho pensato che sugli anni successivi al 1945 ci fosse più curiosità, più attenzione anche rispetto ad alcuni momenti di quella storia che, insomma, abbiamo un po' vissuto, diciamo, ognuno per la sua parte. Da cosa parto? Guardate un po' da cosa parto. 22 novembre 1943, Mussolini liberato al Gran Sasso, sapete, è caduto il fascismo, Repubblica Sociale Italiana che è nata, i nazisti che arrivano liberano Mussolini. Vedete come ha vestito Mussolini? Tutto di nero, con questo cappellaccio. Ennio Flaiano, nel giugno del 44, Flaiano è, come sapete, uno è stato uno degli scrittori più importanti con una vena satirica, ironica, formidabile, ha avuto delle capacità di rappresentare momenti della storia di questo paese in modo mirabile. Pensate che cosa fa nel 44? Fa un articolo in cui rilegge la storia del fascismo attraverso i cappelli di Mussolini. Attraverso i cappelli del primo Mussolini borghese 1919, con il doppio petto, diciamo, borghese, e poi le vestizioni militari, e su su fino ad arrivare alla fase della caduta del fascismo. Sentite come descrive questo passaggio e come descrive il momento, secondo Ennio Flaiano, in cui il fascismo ha perso la capacità di continuare a essere un riferimento per non tutti gli italiani, ma per molti italiani. 1944. Il destino dell'Italia fu irrevocabilmente segnato il giorno in cui, in omaggio all'asse a Roma e Berlino, egli apparve col suo primo berretto nazista, col suo primo berretto nazista, un berretto rigido, sinistro, filettato di rosso, con nere passamanerie e un'aquila ancora più intollerante delle altre, la simbologia del nazismo, della cultura politica nazista. Infine, dopo tanti copricapi, è sempre Flaiano, lo si rivide a settembre in un film luce, un'altra delle fonti, utilissime ovviamente cinematografiche per capire queste trasformazioni, portava un largo feltro nero dalla testa rialzata, un po' alla brava. Tutti pensammo che fosse il suo ultimo cappello, vi assicuro che andando a fare un lavoro sulle prime pagina della Domenica del Corriere, tutto questo è documentato, ci sono almeno 15 copertine tra il 22 e il 23, quando comincia ad avere il ruolo che sapete, Mussolini ebbe dopo il 22, e il 1940 in cui c'è un Mussolini che cambia cappello, che cambia abbigliamento, che cambia divisa e questo secondo Flaiano, secondo me era una giusta osservazione, era il riflesso del rapporto diverso che c'era tra lui capo, leader, duce e gli italiani. Tutti pensammo che fosse il suo ultimo cappello, un cappello da uomo deluso dalla politica e dagli uomini, o alla peggio un cappello da anarchico, ovviamente Mussolini era stato anarchico, socialista e rivoluzionario, e invece era il copricapo da presidente della Repubblica Sociale. Chiude Flaiano, che i copicapi del capo denunciassero questa volubilità ed esprimessero tante varie certezze, punto esclamativo, e che soprattutto conducessero gli italiani in avventure tanto disparate e inutili, eppure fu così. Vedete allora una chiave di lettura che attraverso l'abbigliamento, attraverso i colori dell'abbigliamento, ci permette di cogliere delle trasformazioni importanti anche nelle dinamiche sociopolitiche di un movimento e di un regime importante, quale fu il fascismo nella storia d'Italia. Un'altra fonte, Guttuso, la trilogia su Mimise. Mimise era la donna di Guttuso, a cui Guttuso dedica, è ancora giovane, tra il 40 e il 47, tre quadri. Cambia il cromatismo, c'è uno scivolamento dal rosso evidente nel 1940, il primo ritratto del 1940, nel ritratto leggo anche qualche brano, riprendo un lessico e un gergo che vorrei fosse preciso. Nel ritratto di Mimise, con cappello rosso, 1940, la piccola tela ha una dominante cromatica vermiglia, impreziosita dal bianco del filo di perle e dalla grossa rosa che ella porta, Mimise, sul vestito della festa. L'ambiente è quello di un modesto interno domestico, con un colorario corollario di altri colori vivaci, il giallo dei muri e l'azzurro del cielo che si intravede dalla finestra. Alcuni anni dopo, a Repubblica insediata, Guttuso dipinse altri due ritrati dove, come si è osservato, ha osservato un collega, i colori della bandiera, vedete, rosso, bianco e verde, i colori della bandiera diventano l'abito e le finiture con cui vestire l'amata. Nel ritratto di Mimise del 1946, rendendo in modo suggestivo il profilo della donna che dorme, l'anno dopo, in quello dell'anno successivo invece recuperando la simbologia rivoluzionaria giacobina, in questo caso c'è una rappresentazione con l'evidenza del tricolore nazionale, l'anno dopo ridipinge un altro, la trilogia, un altro quadro dedicato alla sua compagna, laddove invece tornano i colori e le simbologie della rivoluzione francese. Vedete anche la possibilità di lavorare su una pittura che conosciamo, che molti almeno conoscono, io immagino, e che può essere riletta valorizzando la dimensione cromatica, che io credo anche in un altro modo. No, sono andato troppo avanti. Perché succede questo? Qualcuno mi aiuti? No. Questa era l'immagine giusta. Un'altra fonte, un'altra fonte importante che ci, poi ci arriviamo a Berlusconi, ci arrivo più in là, che ci fa capire come quell'intreccio che prima evocavo, tra la dimensione della pubblicità commerciale, del consumismo e la politica avvenisse dalla fine degli anni 50, più o meno quando l'Italia comincia a diventare quello che sappiamo essere stato ormai, un paese economicamente avanzato, un paese industrializzato, laddove la qualità della vita, i consumi, i costumi andavano cambiando radicalmente. Questo è un manifesto del Partito Comunista. Vedete, 58, Modugno aveva appena vinto il Festival di Sanremo. Volare, eccetera, eccetera. C'è la parodia, l'uso politico di un testo, di un motivetto ovviamente che tutti conoscevano, che tutti nei bar, nelle piazze cantavano. Troppo in alto, Fanfani era allora il leader democristiano, l'interlocutore, l'avversario, buttiamolo giù, tra l'altro c'è anche questo gioco sull'altezza, la statura ovviamente di Fanfani. Una commissione di linguaggi, di figurazioni cromatiche, di colori, una larga presenza dell'azzurro e del blu, che non era ovviamente il colore della tradizione della sinistra, dei comunisti, ma che in questo caso aveva una sua forte logica. Ma attenzione, i primi a usare la parodia di questa canzone di Volare erano stati i democristiani, la democrazia cristiana. Sentite come ne parla, siamo nel 1958, Carlo Levi, noto scrittore, pittore, artista, lo sapete tutti. Carlo Levi lo racconta osservando la grande piazza di Acireale sempre nel corso della campagna elettorale del 58. Era la campagna elettorale una delle prime forse davvero moderne, in senso compiuto, campagna elettorale nell'Italia del secondo dopoguerra. Siamo ad Acireale. A dire il vero, racconto tutto questo, commento io, con malcelato sarcasmo. Su uno dei lati, tra palazzi e case signorili, sta, virgolette, la sede della democrazia cristiana. Siamo ad Acireale. Un altoparlante sparge continuamente una languida, stucchevole canzone. Questo è Carlo Levi che scrive e descrive questo che accade da Acireale. Gridando con voce lamentosa sul motivo deprimente e animizzante del blu dipinto di blu. votate per l'ADC, votate per l'ADC. L'aria si perde sulle volute barocche, sulle volute barocche. Punto. Io commento, però, del resto, l'ADC fu il primo partito ad effettuare un sondaggio in vista del voto. Fu il primo partito che si avvalse di competenze tecniche esterne. Il primo esperto di comunicazione, di campagna elettorale americano, lo assunse la democrazia cristiana. In questo dimostrando che Kennedy dicesse il manifesto del partito comunista di essere molto moderno, di essere molto avanti alla democrazia cristiana rispetto al tema della comunicazione e della propaganda politica. commistione di linguaggi, di figurazioni cromatiche, di preferenze di un colore invece che di un altro. Vediamo cosa viene fuori adesso. Ecco. La cinematografia. Ho lavorato su, non tutti, non avrei potuto e non sarei stato in grado, ma su alcuni film, tra cui questo, Deserto Rosso, che è un classico della cinematografia di Michelangelo Antonioni, ovviamente. Ma perché l'ho scelto? Siamo nel 1964, la sceneggiatura di Tonino Guerra, un mio conterraneo, romagnolo, che ha scritto molte delle più belle sceneggiature dei film tra gli anni, fino anni 40, 50 e anni 60. Che cosa rappresenta questo film? L'avvento della modernità, i costi della modernità in quell'Italia, che tra la fine degli anni 50 e gli anni 60, come prima ricordavo, diventa un paese economicamente avanzato, industrializzato. Con l'avvento della modernità, osservo, rappresentazioni e percezioni del mutato paesaggio erano simboleggiate da una nuova gerarchia di colori. Cambia il paesaggio, cambia la gerarchia dei colori che noi troviamo nel paesaggio. Può essere il paesaggio in campagna, può essere il paesaggio di un supermercato, laddove si va, si andava a comprare, a fare spesa, perché c'era la possibilità di avere qualche lira in più. Tutto ciò viene rappresentato in modo mirabile da Antonioni, indagatore dei risvolti e della transizione della crisi delle identità tradizionali e di genere. Questo film viene rappresentato al Festival di Venezia, vince il Leone d'Oro. Carlo De Palma vince il nastro d'argento per la migliore fotografia. È il primo film a colori di Antonioni. Sentite come Antonioni descrive il film che lui voleva realizzare, proprio in ragione della sfida della modernità del colore. La storia di questo film è nata a colori. Riconoscete tutti la giovanissima, bravissima Monica Vitti, ovviamente, era uno dei primi film che faceva proprio con Antonioni. La storia è nata a colori, ecco perché dico, è Antonioni che parla, che la decisione di fare il film a colori non l'ho mai presa, non era necessario prenderla. Nella vita moderna mi pare che il colore abbia preso un posto molto importante. Siamo circondati sempre più da oggetti colorati. La plastica, che è un elemento molto moderno, è a colori. E che la gente si stia accorgendo che la realtà è a colori. Nel film ho cercato di usare il colore in funzione espressiva, nel senso che avendo questo mezzo nuovo in mano ho fatto ogni sforzo perché questo mezzo mi aiutasse a dare allo spettatore quella suggestione che la scena richiedeva. Vedete anche la possibilità di rileggere una parte della nostra migliore cinematografia attraverso la dimensione cromatica e attraverso il colore, cogliere la rappresentazione delle sfide dei dilemmi della modernità, potrei dire di altri film. Ho lavorato nel libro, eventualmente qualcuno se vorrà potrà guardarci molto anche sul Novecento di Bertolucci, che ovviamente è l'apoteosi del colore, di un certo colore almeno. C'è una rappresentazione fortissima del colore nell'abbigliamento, le attrici, gli attori di questo film sono vestiti in un certo modo e non è mai banale. Quando dicevo prima quel minimo di strutturalismo per cui se un colore è vicino ad un altro ha un senso e chi questo rappresenta vuol dare un senso a quel colore messo vicino ad un altro invece che ad un altro ancora. Ancora Antonioni, i colori sono protagonisti del deserto rosso. I vestiti dei personaggi e il paesaggio di sfondo ne sono la sua realizzazione. Si ha come l'impressione di toccare le pareti grigie, sentire la nebbia. È un film ambientato tra Porto Marghera e Ravenna, la pineta che non c'è più, il bosco verde, la pineta verde che a Ravenna non c'è purtroppo più. Si ha come l'impressione di toccare le pareti grigi e sentire la nebbia, il cappotto di lana verde che indossa Giuliana, Monica Vitti, mentre passeggia con suo figlio all'inizio del film in un mare desolante, grigio e insieme sublime di detriti. Il film è esemplare nel rappresentare la crisi della modernità e anche nella rappresentazione di tutto questo attraverso la dimensione cromatica, la valenza cromatica. La famosa Renault rossa, maggio del 78, laddove viene trovato il corpo mai morto senza vita di Aldo Moro. Incrociando le fonti ho cercato di dare una lettura anche qui, e non era semplice perché ovviamente stiamo parlando di una delle pagine più drammatiche del nostro paese, di una figura di altissima qualità, un grande statista e quindi la sobrietà era necessaria e spero di averla mantenuta. Eppure, che cosa succede? Succede che subito dopo il rapimento di Aldo Moro, comunisti e democristiani, bandiere rosse e bandiere bianche, a piazza San Giovanni si ritrovano insieme. E sentite i giornali come raccontano questa cosa. Fu uno spettacolo assai insolito vedere nell'immensa piazza di San Giovanni in Laterano a Roma, un mare di bandiere rosse e un mare di bandiere bianche e democristiane sventolare insieme. Non era mai accaduto, oppure era accaduto in modo incidentale, in una manifestazione politica a sostegno di Louis Corvalin, che era allora il segretario del Partito Comunista in Cile, dopo il colpo di Stato del 73 di Pinochet, ci fu una manifestazione ancora che vide insieme democristiani e comunisti a Roma, in cui bandiere rosse e bandiere bianche si trovarono per protestare contro l'incarcerazione di Louis Corvalin. Ma ovviamente in questo caso, per la nostra storia, ha un'altra rilevanza. Questi accostamenti non sono mai soltanto scenici. Prova ne sia che fino a quel giorno una scenografia del genere, sono i giornali, i commenti del tempo, non l'avevamo mai vista e non si era mai vista. Allora avevo una ventina di anni e diciamo queste cose me le ricordo. C'è chi discute, non stiamo esagerando, non stiamo mettendo insieme storie così diverse, per cui ci confondiamo qualcuno, Enzo Forcella, che era uno dei giornalisti più noti e più bravi del tempo, disse attenzione, un conto è la solidarietà in un'occasione di questo genere, ma non mischiamo storie che ovviamente sono molto diverse. Sentite come Miriam Maffay descrive il ritrovamento dentro la famosa reno rossa del corpo di Aldo Moro. Ho cercato di rileggere questa sua cronaca attraverso una dimensione cromatica e vi sottolineo la decina di passaggi in cui Miriam Maffay vuole enfatizzare quello che sta scrivendo attraverso una colorazione, una sottolineatura di natura cromatica. Questo fagotto, il corpo, vi ricordate la fotografia del corpo di Moro quando viene trovata? Sembrava quello. Questo fagotto gettato dietro il sedile posteriore della Renault color amaranto, non rossa. Miriam Maffay dice che non era proprio rosso-vermiglio, è una tonalità che va più sull'amaranto. In via Caetani è il corpo di Aldo Moro, quel fagotto. È un fagotto in forme, avvolto in una coperta color cammello. Un altro colore, coperta color cammello. Con un bordo di raso, una coperta come ce ne sono in tutte le nostre case. Come ancora ci sono in molte case. Un ufficiale di polizia alza un lembo della coperta di lana giallino. E' diventato giallino quella coperta color cammello. Si intravede la faccia di Moro, gli occhi semi chiusi, la barba lunga, bianchissimo il collo della camicia. Bianchissimo il collo della camicia. Poi commento questo passaggio. Arriva un vecchio sacerdote, la stola violetta. In viola non può non essere il colore della rappresentazione liturgica. Gettata di traverso su una tonaca consunta, l'ampolla dell'olio santo tra le mani. Arriva, vi ricordate le fotografie del tempo. Una telefonata anonima pervenuta poco dopo le 13.30 al centralino della questura aveva avvertito in via Caetani c'è un'auto rossa. La comunicazione delle brigate rosse era stata un'auto rossa. Con il corpo di Moro. Il corpo di Moro, quando è stato estratto dagli artificieri, era ripiegato e irrigidito. indossava lo stesso abito scuro, abito scuro, che aveva nel giorno del rapimento. Gli rimisero quel vestito che aveva quando era stato rapito. Un abito blu con camicia bianca a righine. Miriam Mafai insiste su questa dimensione. La sottolinea era, sapete, una delle più brave giornaliste che abbiamo avuto dagli anni 70, agli anni 90. e la cravatta ben annodata. L'abito era macchiato di sangue. Sul petto di Moro erano stati premuti alcuni fazzoletti per impedire che il sangue sgorgasse dalle ferite. Ovviamente ha una rappresentazione cruda, drammatica, ma a mio modo di vedere, e spero di aver visto bene e non aver visto male, la sottolineatura ripetuta di questa dimensione cromatica nella sua cronaca non era banale, era voluta. Fu un epilogo, commento io, condito di diverse figure e metafore cromatiche, nel segno di un dominante e simbolico colore rosso. Il sangue della vittima, nonché dell'auto, trasformata, scrive ancora Miriam Mafai, virgolette, in una barra di metallo. Ma anche della purezza del bianco prima della violenza subita, la camicia intonsa, bianchissimo il suo collo, aveva scritto Miriam Mafai. Del blu tipico dell'abito di un uomo pubblico, come era Aldo Moro quando fu rapito. Del viola dell'uomo di chiesa quando impartisce l'assoluzione prima del trapasso. Del giallo di un oggetto semplice della quotidianità. Insomma, io ci ho voluto vedere un passaggio d'epoca, come credo sia giusto dire. Allora, dopo il 78, dopo l'assassinio di Moro, la storia del nostro paese è stata un'altra storia. Che ci piace o non ci piace è un'altra questione, è stata un'altra storia. La sottolineatura di questa dimensione cromatica nella tragedia non è banale. E io credo che una giornalista avvertita come Miriam Mafai abbia usato certi termini, certe sottolineature perché voleva rappresentarci anche sotto quel profilo il dramma che l'Italia allora aveva, aveva, stava vivendo e aveva vissuto. E andiamo velocemente verso, credo gli orari siano questi qua, verso la fine. No, prima di arrivare al vostro sindaco, devo recuperare Berlusconi, che siccome è un uomo molto libero, sapete, se n'è andato da un'altra parte. 1994, ovviamente, insomma, io non potevo non mettere al centro di una piccola riflessione il simbolo di Forza Italia, i colori allora utilizzati, il tricolore della bandiera sportiva, l'azzurro che poi ha rappresentato, il colore di riferimento. Vi ricordate cosa aveva scritto su un partito di lì, Ilvo Diamanti? Non è l'azzurro a cui attribuire una valenza ideologica. Ha una valenza sportiva, ha un'altra valenza, non sicuramente quella tipica della storia delle culture politiche che con voi sto recuperando. E vediamo un po' come si può rileggere e riguardare questa cosa. Intanto lo stesso Berlusconi, poco dopo, poco dopo aver vinto le elezioni del 1994, ricordate il centrodestra, eccetera, eccetera, dichiarò, chiamateci azzurri, non forzisti, insiste subito su questa valenza. E la stampa del tempo, come rappresentò l'avvio della vicenda della dinamica berlusconiana? In questo modo, diciamo, tra il grottesco e l'ironico, ma insomma, cogliendo, io credo, dei fenomeni che poi, col seno del poi, abbiamo visto realizzarsi, diciamo, nei venti anni successivi. La stampa della primavera del 1994. Fa tutto da sé il cavaliere. Si è inventato un partito. Gli ha dato un programma. Si cerca i candidati e perfino gli avversari giusti. Si è ispirato al proprio passato di cantante per comporre le note dell'inno che farà dimenticare agli italiani l'odiata Bandiera Rossa, l'inno della tradizione comunista, ma ancora prima, dalla fine dell'Ottocento, anarchico-socialista, e lo sfiorito Biancofiore, che dal 1907 era stato l'inno prima di Sturzo e poi del Partito Popolare nel primo o dopo guerra, scelto poi da De Gasperi per la democrazia cristiana dopo il 1943. Ha utilizzato il proprio know-how da presidente del Milan, qui c'è una coloritura che poi credo vi farà un po' sorridere, per dare ai militanti un armamento di simboli forti e ben riconoscibili, che hanno funzionato e come? Lo sappiamo. La fortuna di Forza Italia, oltre ovviamente al progetto, a quello che c'era di contenuti, è stata anche fortemente legata alla capacità di incidere dal punto di vista della simbologia della comunicazione politica. La presidente del Milan per dare ai militanti un armamento di simboli forti e ben riconoscibili. Il modello del Milan Club considerato vincente ha clonato quello del Club di Forza Italia. Nel discorso al Senato di insediamento del governo Berlusconi si è abituato a tante cose e non ha mai avuto remore anche nel giocarsela attraverso un linguaggio non abituale nella cultura e nella tradizione politica. Nel discorso al Senato per chiedere la fiducia per il suo governo, Berlusconi ebbe modo di sottolineare i suoi successi sportivi. E qui c'è una cosa esilarante. Dice Berlusconi in Senato. In Senato, non da un'altra parte. Poi sono entrato nel calcio e i risultati li conoscono tutti. Tanti scudetti, vittorie europee, mondiali che hanno fatto onore all'Italia. E questo è vero. Io sono un tifoso del Milan e fino a un certo punto ho tifato Milan anch'io. Fino a un certo punto. Che cosa succede dopo la dichiarazione di Berlusconi? Al che il presidente in bianconero della Juventus, Gianni Agnelli, in bianconero, questo lo sottolineo io, avrebbe prontamente replicato, questo era tipico di Agnelli. Prima che il Milan contribuisca ai campionati del mondo, come ha fatto la Juventus, c'è ancora molta strada da fare. Allora voi vedete questo linguaggio sportivo assimilato, metabolizzato dal linguaggio politico, al punto tale che ha influenzato fortemente anche il linguaggio degli altri. Non è solo il linguaggio di Forza Italia. E' il linguaggio politico che è cambiato in ragione della sottolineatura del nesso forte tra il linguaggio sportivo e il linguaggio politico. E chiudo veramente con il vostro sindaco, lo ritrovo, perché a quel punto, a questo punto, 2011, una delle ultime volte in cui Pisapia va in piazza o forse è il giorno della vittoria, della festa, dopo questo ho messo primo giugno, ma non sono sicuro se è 31 di maggio o primo di giugno. Perché chiudo con questo? Perché io credo negli ultimi anni, dal 2007 e 2008, sia capitato qualcosa di importante nella storia di questo paese, o stia capitando, meglio dire così. con il venir meno dei colori tradizionali delle culture politiche, quelle di cui parlava anche Diamante, il rosso, il bianco, se volete per un certo aspetto il verde, ma ovviamente il nero. Che cosa si è delineato? Un'Italia, come posso dire, che rifiuta il colore come modo di rappresentare collettivamente delle culture politiche, a meno che non siano colori nuovi che vanno a corrodere quella tradizione che non ci piace più o che non è più in grado di rappresentare, di auto-rappresentare culture politiche come è accaduto fino agli anni 90, fino a quel manifesto elettorale di Berlusconi nel 1994. Pisapia su questo ha scritto, ha avuto modo di pensarci, di fare sue riflessioni, ma ancora prima un giornalista molto attento, poi chiuderò davvero con un altro giornalista, Marco Damilano, ma ancora prima di lui, un altro giornalista che scrive sulla stampa, Massimiliano Panarari, Massimiliano Panarari, ricordatelo questo nome, perché ha una sensibilità verso la dimensione cromatica della politica che molti giornalisti suoi pari non hanno. Arancione è il colore della libertà, perché arancione? Perché viola? Perché bianco? e non rosso, e non nero, e non azzurro. L'azzurro ha perso la forza che ha avuto non solo Forza Italia, vi ricordate la transizione del movimento sociale d'Alleanza Nazionale nel segno dell'azzurro, nel segno di colori comunque diversi rispetto alla tradizione passata. Arancione è il colore della libertà, declinata come promessa di una giunta di liberazione dai partiti. Pisapia dice a tutti, rappresenta lui, De Magistre San Napoli, altri sindaci a Cagliari altrove che sono eletti sotto la insegna del colore arancione, il rifiuto di quella tradizione partitica che non prende, che non convince, non convince più. Il Maggio Milanese, il Maggio Napolitano, la rivoluzione pacifica contro il ventennio berlusconiano ufficiato appunto da Giuliano Pisapia, è Panarari che parla. Arancione è il colore del buon umore e della felicità. Magari ci sono molti elettori di Pisapia e che proprio nel segno del colore arancione probabilmente hanno avuto anche voglia di votarlo perché condensava quei valori di cui Pisapia voleva ergersi a interpreti. Ma è Pisapia stesso che su questo scrive. Qual è la filosofia del movimento arancione? La filosofia del movimento arancione è come del movimento viola, come di tutti quei movimenti che hanno rifiutato i colori tradizionali delle culture politiche che hanno fatto la storia d'Italia. La filosofia del popolo arancione ha scritto Pisapia quanto di più libero esista. Gli arancioni sono quelli che hanno partecipato spesso senza avere una tessera. La crisi della militanza, il modo di fare politica in modo estemporaneo. C'è un obiettivo eleggere un sindaco, c'è un referendum da fare, c'è un obiettivo che riguarda il bene comune che si vuole insieme raggiungere. Gli arancioni sono quelli che hanno partecipato spesso senza avere una tessera, sono quelli che hanno lavorato per il bene comune senza essere incasellati in un partito e senza aspettarsi niente in cambio. Coloro che hanno fatto politica immaginandola come servizio, non come ruolo. È successo questo nella storia di questi ultimi anni è quello che ha motivato il mio interesse verso il tema della rappresentazione delle culture politiche attraverso i colori. È un modo forse, ma insomma poi ognuno di voi si sarà fatto un'opinione, di rileggere la storia delle passioni politiche attraverso le emozioni, i sentimenti, le autorepresentazioni e la rappresentazione degli altri. Tutto quello che interseca la sfera individuale, la vita pubblica, la militanza, il superamento ad un certo punto, lo abbiamo visto, dell'idea della militanza politica o della militanza partitica. Bene, io mi sono molto divertito a fare questi libri, devo dire la verità. E spero che anche voi vi siate divertiti ad ascoltarmi. Grazie a voi. Grazie. 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 Grazie a tutti